buongiorno ragazzi oggi cambiamo la ruota a una panda vediamo quanto ci mettiamo è non c'è mai buongiorno non c'è mai buongiorno qui sta imprevisto ci piace il dolore ammetto che i bulloni erano un po' lenti quindi qualche minuto in più mettiamocelo è un cambio ruota ecco così al fai da te con cric comodamente tutto sommato questa è più alta è un po' l'altro che può fare il corso è un po' l'altro è un po' l'altro è un po' più è un po' l'altro è un po' l'altro è un po' l'altro è un po' l'altro una volta che abbiamo stretto abbastanza bene non abbiamo problemi avevo un click migliore ma ho voluto adoperare questo qua al suo della banda per non avere no così la chiudiamo stringete bene ma non serve troppo forte dai montato quanto è passato tre minuti e 40